Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo blogmas che come potrete intuire è un po' diverso dal solito. Oggi infatti vi terrò compagnia mentre studierete, quindi prendete i vostri libri e andate a studiare, studiando in tempo reale insieme a voi. Per rimanere nel clima natalizio ecco a voi il mio nuovo alberello di Natale. Questo qui è un albero vero in un vaso, quindi lo terrò anche dopo Natale e ce l'avrò anche per i prossimi anni. Oggi inizierò studiando un capitolo di diritto privato e utilizzerò la tecnica dell'Ective Recall, della comprensione attiva, per scrivere alcuni appunti su Notion, che è l'app che uso normalmente, e poi continuerò, penso, studiando diritto penale. Fatemi sapere nei commenti cosa dovete studiare voi e spero che questo video vi motivi a tenere duro fino a Natale, a dare il massimo adesso in modo da potervi rilassare e passare tempo con la vostra famiglia nelle vacanze di Natale. Iniziamo a studiare! Grazie! 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 alcune liste che mi dovevo ricordare e quindi cercando di richiamarle alla memoria senza guardare sul libro. Vi auguro una buona sessione di studio, una buona giornata e ci vediamo nel prossimo vlogmas.